Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo ad occuparci di politica. Ospite nei nostri studi il senatore segretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina. Buonasera Fina. Buonasera. Allora, io con lei vorrei affrontare vari temi, quindi faremo una sorta di raffica di domande e risposte, anche se si tratta di questioni su cui c'è bisogno di una certa articolazione. In particolare la prima, perché non è facile nemmeno spiegare bene qual è il meccanismo, che è piuttosto complesso, che riguarda il congresso del Partito Democratico, una fase che è iniziata proprio in questi giorni, si è conclusa una prima fase di tesseramento, sta per iniziare il voto nei circoli. Ecco, nella semplificazione di un discorso che, ripeto, è piuttosto complesso, qual è il senso di questo vostro momento congressuale Fina e soprattutto come si sta lavorando anche qui in Abruzzo, del segretario regionale, per un dibattito che possa coinvolgere non soltanto chi è già nel Partito Democratico, ma anche quelle forze cui guardate per un allargamento della compagine del nuovo partito. Intanto noi siamo un grande partito democratico che sceglie il proprio gruppo dirigente attraverso il coinvolgimento di centinaia di migliaia di iscritti e poi con i nostri elettori e le nostre elettrici alle primarie il 26 febbraio. Queste iniziano proprio in queste ore le giornate dei congressi, quindi gli iscritti potranno votare tra le quattro proposte di candidatura che sono in campo, Elislein, Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Due di questi, chi riceverà più consenso da parte degli iscritti, si proporrà alle primarie del 26 febbraio, alle quali primarie per la prima volta, oltre che votare nei gazebo, le nostre cittadini, ad esempio anche gli studenti fuori corso potranno votare dove studiano, ma ci sarà una importante possibilità di partecipazione online per coloro che ad esempio lavorano e che non possono recarsi ai gazebo. Insomma, ancora una volta noi, che abbiamo tanti limiti, però coinvolgiamo centinaia di migliaia di persone, speriamo di superare naturalmente le nostre più rose aspettative di partecipazione per scegliere la nostra leadership. Leadership nuova, rinnovata, che in qualche modo dia più forza alla nostra proposta anche a servizio della coalizione. Con un PD più forte possiamo essere più in grado di ricostruire un quadro delle alleanze alternative alle destre. Un paio di temi agitano in queste ore la politica nazionale, in particolare si discute anche per i riflessi politici del caso Cospito, cospito che ricordiamo è un abruzzese, sulla applicazione del 41bis. Le parole di Donzelli in Parlamento, le reazioni, ma anche quanto è emerso, anche da indiscrezioni di stampa circa la non divulgabilità di frasi che sono state invece pronunciate nell'aula di Montecitorio, hanno anche innescato un clima molto molto duro sui temi della giustizia. Riesce a sintetizzare ai nostri telespettatori cosa è successo e soprattutto che cosa secondo voi non doveva succedere? Ma guardi, direttore, io ho lavorato come sa quattro anni al Ministero della Giustizia, nel gabinetto del Ministro e ho potuto vedere, visionare, al netto del nulla osta sicurezza, che è lo strumento che consente di accedere a documenti secretati, ma al netto di questo ho potuto visionare documenti riservati e sensibili, dispacci dei servizi, piuttosto che corrispondenze relative all'ispettorato. Il Ministero della Giustizia si occupa anche naturalmente di verificare quello che denuncia i magistrati o conflitti di competenze. Non mi è mai venuto in mente, come a nessuno, di rivelare ad altri questi documenti, mentre invece è accaduto nel rapporto tra il sottosegretario Dalmastro, che di fatto è il commissario politico dell'attuale Ministro a nome di Fratelli d'Italia, e l'onorevole Donzelli, il quale poi ha usato questi argomenti molto sensibili, li ha definiti anche nordi o anche se ha detto non segretati, sensibili, li ha usati in Parlamento come una clava contro l'opposizione politica. è la prima volta che accade una cosa del genere, peraltro da un parlamentare che è il vicepresidente del Copasir, quindi è egli stesso chiamato al massimo della riservatezza su documenti. Ma d'altra parte lo capisce chiunque, se si rivela uno possibile nesso tra terroristi e mafiosi, è evidente che si sta mettendo a repentaglio un sistema di indagini e magari si dà anche un messaggio a coloro che non devono riceverlo. Insomma, è un alfabetismo istituzionale totale. Dopodiché è successo in Senato, dove sono io anche qualcosa di più grave, il senatore Balboni ha accusato la sinistra solo per la prerogativa che hanno i parlamentari, che è una prerogativa fondamentale, che è quella di andare in carcere, verificare la situazione dei nostri istituti penitenziari, ascoltare la polizia penitenziaria, ascoltare i ristretti. E una delle prerogative più importanti, beh, c'è stata un'accusa infamante, che è quella di aver, in qualche modo, uso le parole, cito, aperto una voragine a favore delle mafie. Ora, francamente, l'ho ricordato ieri al congresso della CGL, c'è stato ieri e l'altro ieri, ci sono nomi nella storia della sinistra politica e sindacale italiana, dalle vittime di Portella della Ginestra, Placido Rizzotto, Pio Latorre, che è stato sindacalista, politico e padre del codice antimafia, colui che ha dato vita a quel 416 bis da cui deriva tutta la legislazione antimafia. Francamente, lezioni da parte di altri che invece non hanno fatto i conti con la loro storia e magari col nesso sì che c'è stato nel tempo tra organizzazioni criminali e organizzazioni estremiste di destra, lezioni non ne prendiamo. Ed è gravissimo che si facciano queste accuse, francamente è anche gravissimo che chi deve presiedere l'Assemblea parlamentare, penso al Presidente Larussa, sia del tutto incapace di richiamare al rispetto di quella istituzione gli esponenti del suo partito. La seconda carica dello Stato, che è soprattutto, invece, un esponente del suo partito. L'altro tema che agita la politica nazionale è quello dell'autonomia differenziata con il progetto di legge di ispirazione leghista che sta facendo molto discutere non soltanto il Parlamento ma anche il Paese. Una regione come l'Abruzzo, Fina, che tipo di vantaggio o svantaggio otterrebbe dall'applicazione della riforma se fosse questa, se restasse questa presentata in Parlamento? Questa è una riforma che divide l'Italia. È una riforma secessionista a servizio delle elezioni della Lombardia, approvata in Consiglio dei Ministri senza coinvolgere la conferenza delle regioni, il che, se ci pensate, è paradossale. Si vuole attribuire una maggiore autonomia alle regioni e non gli si chiede nemmeno un parere su quello che viene approvato centralmente dal Consiglio dei Ministri. È figlia dei referendum, che si sono fatti in particolare in Veneto, secessionisti, soprattutto dal punto di vista fiscale e economico, non garantisce i cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che servono a tenere unita l'Italia, perché l'autonomia è un principio costituzionale e ci sono proposte accettabili e giuste. Ma quando l'autonomia innanzitutto colpisce l'istruzione, per cui noi vogliamo fare 20 scuole diverse, dividere culturalmente questo Paese, e poi colpisce i servizi essenziali, perché non si garantisce che un cittadino dell'Abruzzo abbia gli stessi diritti in termini di sanità, scuola, trasporti, servizi pubblici in generale, di un cittadino del Nord. Ora vorrei dire al Ministro, ai Ministri, alla Presidente del Consiglio Meloni, i patrioti di questo tempo. Io ricordavo, avendo letto e studiato sui libri di storia, che i patrioti di un secolo e mezzo fa hanno unito l'Italia. Questa proposta divide l'Italia, è infatti una bandiera della Lega, che richiede che questa sia la propria bandierina all'interno di questo governo, eppur di tenere insieme questa maggioranza, che è divisa su tante cose. Prima abbiamo citato il caso Donzelli, direttore proprio ieri Lupi, ha detto che io fossi stato in lui, mi sarei scusato nei confronti del PD. Bene, proprio sulle questioni di fondo, il rapporto con le istituzioni, l'assetto istituzionale, la tenuta dell'unità del Paese, ci sono divisioni profonde, che poi si risolvono solo, come in questo caso, quando sono a servizio del prossimo appuntamento elettorale. Dividere l'Italia, però, invece è un danno, non solo per il presente, ma anche per il futuro e per le prossime generazioni. Il fatto che ci siano questi temi nell'agenda politica, voi avete detto, è un diversivo. Attenzione agli italiani, perché parlare di argomenti di questo genere allontana la protesta, allontana anche gli effetti di delusione rispetto ai primi atti del governo in materia economica, in riferimento ovviamente alla questione delle accise, ma come valuta in questi primi 100 giorni la politica economica del governo Meloni? Senza dubbio sono dei diversivi. Si pensa al fatto che nei giorni in cui si annunciava lo sciopero dei benzinai si è aperta la discussione sul presidenzialismo. È evidente che c'è la volontà di provare a nascondere il fatto che i cittadini sono delusi, anche perché di fronte alla crisi economica, alla crisi energetica, pensiamo all'Abruzzo, siamo a quasi il 13% di inflazione, eppure i salari sono diminuiti. Questo vale per tutta l'Italia, dal 1990 agli anni nostri, i nostri salari in Italia sono diminuiti del 3%, in Francia e in Germania sono aumentati del 30%. In più c'è l'aumento dei beni che i cittadini acquistano al consumo. È evidente, noi in Abruzzo abbiamo perso 20.000 occupati. In questo quadro di crisi economica, di difficoltà economica, invece di dire qual è la soluzione, si tende a discutere di altro. Ed è grave, molto grave, che di fronte a questo tentativo di dividere l'Italia affossando il Mezzogiorno d'Italia, compreso l'Abruzzo, il Presidente della nostra Regione, ancora una volta, faccia l'uomo del suo partito e della Presidente del Consiglio, piuttosto che il primo cittadino della nostra Regione. Perché dovrebbe essere, insieme agli altri Presidenti di Regione del Mezzogiorno, il primo a dire che una proposta di questo tipo, quella approvata al Consiglio dei Ministri, è inaccettabile e che una politica che non contrasta la precarizzazione, l'impoverimento, la nostra manovra, quella che abbiamo approvato, contro i poveri, piuttosto che contro la povertà, tutto questo danneggia, in particolare, le Regioni del Mezzogiorno, Abruzzo compreso. Parliamo dei suoi primi, dei suoi personali, primi cento giorni in Parlamento, con alcune partite che riguardano anche la nostra Regione. Lei più volte è intervenuto in questi tre mesi sulla questione dei piccoli tribunali. C'è stata una proroga, ma secondo lei non basta, occorre un provvedimento legislativo. Come si possono salvare questi uffici giudiziari? Innanzitutto approvando una legge che metta definitivamente mano alla geografia giudiziaria. Adesso, nel mille proroghe, abbiamo presentato tutti i partiti una ulteriore proposta di proroga. Io l'ho presentato, un emendamento di tre anni, ma anche gli altri. È solo che è la settima. Io stesso citavo prima i miei anni al Ministero della Giustizia e ho lavorato a una di queste precedenti sei proroga. Adesso però c'è bisogno di una soluzione definitiva. Ma perché l'Abruzzo dovrebbe avere questo trattamento di favore? Questo non le viene obiettato quando fate questa battaglia in Parlamento? Innanzitutto, nelle altre regioni, negli altri territori, ormai alcuni tribunali sono chiusi da oltre dieci anni, gli uffici giudiziali, sono riorganizzati. In Abruzzo, innanzitutto, ancora permangono i problemi che hanno impedito di applicare questa legge, e cioè l'indisponibilità nelle città ospitanti di spazi sufficienti. In più, si è dimostrato in questi anni che per una regione grande, in termini geografici come la nostra, noi abbiamo bisogno di presidi della giustizia distribuiti in modo uniforme nel territorio e non concentrati solo nelle città capoluogo. È stata una riforma schematica, quella della geografia giudiziaria, che non teneva conto delle specificità territoriali, che negli anni, non solo gli ordini degli avvocati, ma tutti hanno dimostrato. D'altra parte, guardi, io sono stato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il rappresentante del CSM ha confermato a nome del Consiglio Superiore della Magistratura la necessità di mantenere questi presidi e infatti hanno continuato a assegnare magistrati. Adesso il Tar ha dato ragione anche agli ordini degli avvocati per gli errori che il Ministero della Giustizia ha fatto a non assegnare il personale che adesso dovrà assegnare. L'attuale organizzazione della giustizia in Abruzzo funziona e non è uno spreco e invece sarebbe un costo e non un risparmio un accorpamento fatto in modo schematico. Questo è il punto e su questo punto si è dimostrato anche negli anni. C'è stata anche un'unità del Parlamento a prescindere dal fatto che venisse proposta dall'Abruzzo. Io penso che sia il tempo giusto per arrivare a una soluzione definitiva. Ho presentato un disegno di legge chiedo che sia firmato ma sono anche pronto non mi interessa il fatto che ci sia la mia prima firma a firmare lo stesso disegno di legge se viene presentato la maggioranza purché si arrivi alla soluzione definitiva di un problema che riguarda un diritto delle abruzzesi e degli abruzzesi. Altro tema su cui è aperto il confronto con il governo in particolare con il ministro Salvini è quello delle infrastrutture ferroviarie. A che punto è questa partita? Ma abbiamo scoperto quando è venuto in audizione la commissione di cui faccio parte che è l'ottava in Senato che si occupa anche di infrastrutture a loro pubblici oltre alla transizione ecologica e digitale che in realtà appunto manca una strategia di finanziamento di questa opera strategica nazionale a parte i 620 milioni che grazie al PNRR sono destinati a quest'opera mancano gli ulteriori finanziamenti per completarla e noi abbiamo bisogno che anche questo governo anche questa legislatura decida che quest'opera è strategica. Ora stiamo interloquendo col commissario Macello insistiamo col governo perché si impegni ringrazio i sindaci perché hanno fatto un ottimo lavoro e continuano a fare un ottimo lavoro di pressione e di attenzione noi abbiamo bisogno è l'obiettivo storico dell'Abruzzo di rompere il nostro isolamento e per rompere l'isolamento costruire un rafforzamento dell'asse est-ovest oltre naturalmente all'asse adriatico ci consente di essere la regione che proprio all'altezza di Roma metta in collegamento Tirreno e Adriatico e questo è il futuro dal punto di vista commerciale industriale sono le reti intermodali sono i corridoi europei noi abbiamo bisogno d'altra parte lo dicono le 16 sigle che in Abruzzo fanno questa battaglia sindacale di categoria insieme è una delle poche regioni in cui dal sindacato alla confindustria passando per tutte le associazioni di artigiani di esercenti che stanno insieme e dicono qual è la strada del nostro futuro ecco accompagnare e sostenere questa battaglia insistere affinché le nostre opere strategiche siano finanziate e completate è davvero il compito di questa generazione della nostra classe dirigente altra situazione su cui lei è intervenuto più volte in Parlamento riguarda lo stato dell'arte della ricostruzione in particolare anche i benefici legati all'applicazione del bonus 110 c'è stato nel frattempo anche il cambio alla guida della struttura commissariale con Castelli al posto di Giovanni Legnini lei quali scenari vede quali preoccupazioni occorre fugare all'orizzonte di un processo che per quanto riguarda il 2009 ormai verso la fase di completamento ma che per quanto riguarda il 2016 il 2017 è ancora tante incognite guardi direttore tre cose la prima noi sul tema della ricostruzione dobbiamo approvare in questo paese un codice della ricostruzione perché non si può ricominciare sempre da capo anche questo depositato come disegno di legge ma che è anche il frutto del lavoro che è stato già fatto nella scorsa legislatura è stato cambiato il commissario l'attuale commissario come primi atti ha fatto degli incontri di partito gli ho detto nelle audizioni che questo non è stata la postura di Giovanni Legnini che invece quando ha iniziato a fare il commissario è stato super partes cosa riconosciuta anche dai presidenti di regione di altra parte politica vigileremo affinché faccia bene il suo lavoro come lo ha fatto Giovanni Legnini tre adesso stiamo discutendo una misura di legge che riguarda proprio la stabilizzazione dei precari sulla ricostruzione e l'applicazione delle regole del PNRR per la destra tanto vituperato PNRR ma che aiuta a sbloccare a velocizzare a sburocratizzare le opere che servono proprio alla ricostruzione pubblica che è uno dei problemi principali sul 110 guardi è stato fatto un caos il presidente del Lance Aquila che è una delle più grandi d'Italia per ovvie ragioni legata alla ricostruzione ha detto in un importante convegno in cui eravamo tutti anche i parlamentari di maggioranza non chiamatelo più super bonus chiamatelo super enalotto perché è diventato ormai incerto quando lo Stato diventa incerto nel rapporto con i cittadini cambia le regole in corso d'opera rompe un patto di fiducia e infatti questo patto di fiducia si è rotto e si è rotto soprattutto sul tema dei crediti incagliati sto facendo una battaglia importante perché noi abbiamo bisogno di sbloccare miliardi di crediti incagliati che mettono a repentaglio 40.000 imprese edili in Italia e puoi immaginare quanto indotto i professionisti le case i cittadini che oggi stanno litigando tra di loro incontenziosi insomma questo caos si poteva evitare il 110 si poteva riformare ma il pregresso bisognava chiuderlo e bisogna chiuderlo sbloccando i crediti e dando tempi giusti di uscita da una misura e di entrata in una nuova misura dopodiché quella che loro hanno proposto il 90% solo per i crediti solo per chi ha un reddito basso non funziona è la morte del 110 mentre invece ce lo dice anche una direttiva europea utile noi abbiamo bisogno di investire sull'efficientamento energetico degli edifici perché è la principale delle cosiddette fonti rinnovabili perché risparmiare energia significa risparmiare la bolletta significa inquinare meno significa produrre lavoro buono e rigenerare il nostro tessuto urbano quindi investire su una misura come il 110 magari mantenendo in quella percentuale ma dedicandola a un certo tipo di immobili e dedicandola a un certo tipo di redditi a chi non se lo può permettere farlo in modo strutturale non cambiare le regole dopo un anno o due questo significa mantenere la forza del settore dell'edilizia che secondo nel nostro paese è solo l'automotive quindi puoi immaginare quando sia importante in una situazione di crisi come questa veniamo ai temi più strettamente politici il più recente dei quali all'attenzione dell'opinione pubblica è quello delle provinciali di Teramo con un esito a sorpresa la vittoria del candidato civico d'Angelo che è un po' scombussalato agli assetti anche internamente ai partiti e alle coalizioni nel centro-destra registriamo uno scontro anche a giorni di distanza tra in particolare la Lega e Fratelli d'Italia addirittura il terzo polo si è diviso in due nel centro-sinistra il candidato è stato vincente è stato appoggiato dal sindaco di Teramo d'Alberto che sarà quasi certamente ricandidato ma questo ce lo dirà fino dalla coalizione tra qualche settimana mentre il Partito Democratico non aveva appoggiato questa scelta parliamo del suo campo cosa è accaduto perché non è facile spiegarlo ai nostri telespettatori nemmeno da parte nostra che pure seguiamo la politica non è facile perché la riforma delle province che le ha rese un ente di secondo livello il che significa che votano solo gli amministratori e non il popolo è stata una riforma monca perché doveva essere completata anche dalla riforma costituzionale per cui noi oggi abbiamo degli enti che hanno tante responsabilità ma che sono che hanno una legittimazione incerta per cui prima si vota il consiglio provinciale poi si vota il presidente il presidente il consiglio provinciale non sono legati tra di loro insomma una situazione davvero complicata la mia interpretazione è che è un ente di secondo livello esattamente come i consorsi che si occupano di acqua di rifiuti o le associazioni di comuni come l'Anci nei enti di secondo livello io credo sia importante trovare sempre uno spirito unitario tra gli amministratori e le amministratrici più che una divisione partitica perché perché quando un sindaco viene eletto e poi va in un luogo di secondo livello a occuparsi di servizi in questo caso la provincia scuole strade provinciali e anche altre cose o l'acqua i rifiuti di servizi che riguardano il proprio comune si occupa anche dei diritti dei cittadini che non l'hanno votato ecco perché io auspicavo che ci fosse una soluzione unitaria anche a Teramo auspicavo che ci fosse anche all'Aquila ma c'è stata una politicizzazione a Teramo e a Pescara invece non c'è stato questo bisogno perché c'è una netta prevalenza di amministratori da una parte di centrosinistra a Chieti e da una parte di centrodestra a Pescara una soluzione unitaria noi l'abbiamo favorita non indicando un nostro candidato presidente lo potevamo fare ma si era già votato alle provinciali e noi avevamo espresso 5 consiglieri su 12 quindi si era manifestato il fatto che tra gli amministratori dello Stato attuale il centrosinistra è sensibilmente in minoranza non abbiamo indicato un presidente naturalmente non ci aspettavamo che ci fossero una proliferazione di candidati i quali poi naturalmente hanno anche scompaginato il quadro politico ma guardi io non voglio mettere il dito nella piaga delle divisioni di nessuno nemmeno del centrodestra auspico che ci sia una gestione unitaria in provincia anche ex post le elezioni che si possa mettere mano a una riforma di cui stiamo discutendo anche in Parlamento per rendere più coerente questo ente o toglierlo o ridargli una legittimazione e una organizzazione seria per quanto mi riguarda è sempre meglio che voti il popolo in quel caso quando vota il popolo come succede alle elezioni regionali europee politico nei grandi comuni c'è il centrodestra e il centrosinistra e in quel caso il PD non ha mai dubbi come possono avere altre formazioni che magari hanno un carattere più civico noi stiamo sempre da una parte che è alternativa alle destre Fina Alberto il vostro candidato al BIS al Comune di Termo questo non ancora me lo ha detto ufficialmente però sarà così immagino io penso di averlo detto forse prima di tutti noi pensiamo che questa esperienza amministrativa vada promossa naturalmente aspettiamo un tavolo di coalizione per decidere insieme come riproporci nelle prossime elezioni amministrative però sono contento di ricordare di essere stato uno di coloro che ha lavorato forse il principale diciamo così protagonista dell'impegno a eleggere Gian Guido Alberto presidente del Lanci regionale anche in quel caso ci fu un accordo unitario perché è stato eletto sindaco anche da sindaci di Fratelli Italia della Lega di Forza Italia o da Civici però ci fu una discussione e io diciamo così mi sono battuto molto anche in virtù della forza di tutti gli amministratori del Partito Democratico in tutta Abruzzo perché il sindaco del centrosinistra del comune capoluogo di Teramo allora a quel tempo ancora non avevamo Ferrara sindaco a Chieti fosse il sindaco dei sindaci d'Abruzzo e penso che abbia fatto bene anche il presidente del Lanci questo cantiere aperto della coalizione del campo largo che non so fino a che punto porti fortuna diciamo del centrosinistra che guarda anche il Movimento 5 Stelle riapre dopo insomma la belligeranza delle politiche in Abruzzo state già lavorando per un'alternativa a Marsilio Fina guarda direttore sono sincero i congressi nazionali del PD di cui ho vantato la partecipazione all'inizio hanno sempre due effetti uno positivo e uno negativo quello positivo è restituirci una leadership forte credibile oggi elemento essenziale per riaprire un dialogo con i nostri alleati il secondo negativo è che a volte sclerotizzano delle divisioni territoriali su questo secondo io sono contento di dire che in Abruzzo negli ultimi 4 anni abbiamo davvero lavorato a un quadro unitario che ad esempio ci ha consentito di eleggere una rappresentanza in Parlamento solo abruzzese senza catapultati come è accaduto ai nostri avversari ma devo dire per essere sincero anche come è accaduto al PD in altre regioni ora noi abbiamo bisogno di questo congresso alla fine di questo mese avremo un nuovo segretario una nuova segretaria nazionale a quel punto saremo forti anche nell'interlocuzione nazionale perché guardi se dipendesse solo dal livello regionale noi abbiamo coltivato in questi anni e lo si è dimostrato nelle elezioni amministrative come lei sa un rapporto stra-positivo con il Movimento 5 Stelle da una parte le forze civiche il terzo polo e le altre forze politiche di sinistra intorno a noi non siamo stati arroganti non siamo stati presuntuosi siamo stati una forza coalizionale che è la giusta vocazione del PD che quando è così vince come coalizione ma è anche premiato come partito e questo noi vogliamo fare vogliamo continuare a fare speriamo che i buoni rapporti che abbiamo costruito nel territorio negli anni siano rafforzati da nuovi buoni rapporti nazionali perché noi abbiamo bisogno entro l'estate di mettere in campo l'alternativa a Marsilio che come si vede invece di occuparsi di difendere l'Abruzzo e l'autonomia differenziata va in ogni comune a fare campagne elettorali aveva appena finito di andare in ogni comune a aprire i circoli di Fratelli d'Italia adesso si occupa di andare in ogni comune per fare già campagna elettorale per le prossime elezioni ma le prossime elezioni vinceremo noi non solo perché in questa regione c'è sempre stata alternanza tra centro-sinistra e centro-destra perché al netto del vento nazionale questo governo e questo presidente di regione sono lo dicono anche gli studi nazionali sono tra quelli visti peggio dai propri cittadini rispetto agli altri in Italia sono bocciati anche perché è stato distante questo governo e su tutte le politiche penso a quella sanitaria in cui abbiamo aumentato la mobilità passiva non abbiamo una rete ospedaliera abbiamo file lunghissime abbiamo ospedali che andrebbero rimessi in piedi da capo a piedi abbiamo molti luoghi non abbiamo i primari non abbiamo la guida non abbiamo i colonnelli non abbiamo i sergenti insomma questo caos i cittadini lo hanno percepito lo hanno percepito anche negli anni della pandemia ma insomma siccome è andato aumentando adesso nessuno lo può nascondere nessuna propaganda bene allora siamo arrivati alla fine di questa conversazione diamo un buon congresso al partito democratico in attesa di avere una leadership nazionale che comunque sarà diversa da quella di Enrico Letta e seguiremo appunto questi sviluppi in particolare nelle prossime settimane grazie ancora a Michele Fine grazie ancora ai nostri telespettatori arrivederci grazie a voi